Vieni qua! Vieni qua! E in questo momento, ancora noi siamo in giro a scuola e lasciando un segno che noi siamo stati qui e abbiamo provato a fare una scuola ma siamo stati da quanti modi, meglio! I papi hanno il potere e noi ce lo prendiamo! Siamo qua allora! Passati dalle forze dell'ordine che ci impediscono di esercitare il nostro diritto di contestare questa fiera della morte, questa fiera delle armi, d'altra parte con le armi stesse! Ma questa fiera non si farà più, è un impegno per l'anno prossimo! Staremo sempre dalla parte dei popoli oppressi della Palestina! Ora appazientiamo un attimo, vediamo se riusciamo a avanzare un altro po' verso l'ingresso della fiera come nostro diritto di dire basta a questa guerra di mercanti e carni di morte! Andrei, Andrei! Andrei, Andrei! Ma come tu hai visto? Sì! Gli stessi che in questo momento C'hanno plecati con i su, studi, c'hanno colpiti Sono gli stessi che giovedì sera Hanno concetto la piazza ai fascisti Avere l'ora Ero, e discorso, e discorso, e macchisti, e macchistri Ed prima, no detto della boda, gli esprimosi Decidivamente, credito, ed espressione, ed investimento E macchistri, e macchisti e qui ci sono fulgoni di una persona, di un popolo che c'è in mancanza per difendere tutti i popoli oppresti, oppresti per l'uomo. Allora, chiediamo il teatro popolare di portarsi sulla prima linea, noi arretriamo un po' per fargli spazio. E' altro popolare in fronte al corteo. Un po' per la casa è di per l'uomo. E' altro popolare in fronte al corteo. Un po' per la sua vita in fronte al corteo. Grazie a tutti.